Buonasera, ciao, tutto bene? Tutto a testo? Alla grande! Come è andata? Dove vanno? Non so, chi era l'avvocato? Lui l'avvocato. E' più Siviglia? O più Marsiglia? Non sappiamo. O più altre squadre? Parla con il suo agente, non sono io la gente, quindi non voglio discussioni. Però siete entrati insieme, quindi... Siamo amici, siccome lui non parla la lingua è fatto da interno. L'inche comunque è ben predisposta al presso, no? Quello sì, ovviamente. Ma un prestito con diritto, vogliono incassare eventualmente. Vedremo, vedremo, non posso dire altro. Parlate con la società, non parlate con me. Va bene, buon lavoro, grazie.